Forza Cagliari! Forza Cagliari! Per il gol dell'idolo di casa, Marco Sau, la rete per la verità è arrivata, ma mister Rastelli, inflessibile arbitro della partitella, annullato per fuorigioco. Quando è arrivato il fischio finale, i ragazzi erano stremati. Eppure non hanno voluto mancare all'impegno con i giovanissimi calciatori del Summer Camp, l'accademia pensata dal Cagliari per far crescere i campioni di domani. La fatica ha lasciato spazio all'entusiasmo, al divertimento e alla gioia. È stata una festa, dentro e fuori dal campo. Infine, il sole caldo e la barbagia ha lasciato spazio all'ombra e un vento fresco di maestrale. Il metaforico abbraccio benaugurante dell'isola per questa nostra nuova avventura.